L'antica leggenda narra che c'è voluta soltanto una notte al demonio per costruire il ponte del diavolo. Quello che invece state vedendo è una perfetta riproduzione in scala, che è in mostra all'interno dell'esposizione Tolentino in miniatura, è stata realizzata dall'artista Ilio Scarpacci con almeno 5-6 mesi. Eh sì, non è che l'ho fatta in una notte, ma mi c'è voluto 4-5-6 mesi. Non ho mai calcolato il tempo, però 6 mesi sicuramente. Una mostra molto bella che è un atto d'amore straordinario nella città, con i monumenti più belli, le chiese, ma anche i portali. Quindi un viaggio anche nella storia, nel patrimonio proprio architettonico di Tolentino. Sì, senz'altro. Io l'ho fatto per la mia città, diciamo. Ho fatto un regalo alla mia città, donando in visione tutte queste piccole opere, diciamo, fatte in miniatura, che ci ho messo tanta passione, tanta manualità e anche del tempo che ci è voluto. Sono tutte opere fatte in polistirolo, polistirele e in legno? Ecco, diciamo che il materiale che uso è polistirene, diciamo, della famiglia del polistirolo. L'80-90% è fatto di questo materiale. Poi c'è un po' di legno, un po' di cartone, ma il 90% è il polistirene. E tanta pazienza. E quella senz'altro. Adesso voglio fare una battuta, eh. Avevo un negozio dove andavo a comprare la pazienza. Me l'hanno chiuso. No, ma lei ne ha tantissime, lo dimostra in tutte le opere che ha realizzato. E sono tantissime. Qual è quella a cui è più affezionato? Ma forse è sempre l'ultima, no? Il Castello dell'Arancia, perché quello mi ha impegnato veramente tanto. E dai sette, otto mesi ci ho dedicato proprio tanto tempo. Qui vicino a noi c'è anche la Torre dell'Orologio, che è una perfetta riproduzione, con tanto di vetrine, insomma, proprio uguale alla realtà. Come realizza lei le sue opere? Ma io parto inizialmente da una foto. Dalla foto riproduco un disegno tecnico, perché non è tutto un blocco, ma sono tanti, tanti pezzi che io poi assemblo. E il lavoro finale è la colorazione. Qual è la difficoltà maggiore? La difficoltà è nel preparare il disegno tecnico, perché io devo partire con delle misure che poi devo andare a assemblare, alla fine mi deve portare, diciamo, dove devo andare a incollare e assemblare. E quello, diciamo, in partenza è il disegno tecnico. Poi dopo la lavorazione, l'incisione, quello è tutta una cosa che viene dopo. Però è sopportato, diciamo, dalla passione per la manualità. Qual è stata la sua prima opera? La prima opera è quella delle fonti San Giovanni, fatte circa venti anni fa. E poi mano a mano ho visto che mi prendeva, diciamo, come lavoro. E ho pensato di realizzare cose della mia città, partendo dalle chiese, dai monumenti, dalle fontane, fino ad arrivare, diciamo, all'ultima fatica, nel Castello dell'Arancia. Lei ha un sogno, Ilia? È questo un sogno nel cassetto che non so quando sarà realizzato. Trovare un sito permanente, che io dono tutto quello che ho fatto, potrebbe essere utile per le scuole, una cosa che il turista che viene a Tolentino si vede in una sola stanza, tutta Tolentino in miniatura. Allora, l'appello è questo. Se avete un locale adeguato, volete metterlo a disposizione, Ilio dona tutte le sue opere e potrebbe essere una bella mostra per raccontare appunto quanto è bella, seppur in miniatura, la nostra Tolentino. Esatto, proprio così.